Buon pomeriggio, buon viaggio, muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono lavori segnalati tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione di Livorno. Prestare attenzione sulla 11 stanotte, lavori di pavimentazione, l'allacciamento con la 1 per chi proviene da Pisa e diretto verso Roma sarà chiuso. E' sempre in 11 per lavori, chiuso lo svincolo di Monte Cattini stanotte in entrata verso Firenze in uscita provenendo da Pisa. Per quanto riguarda i traghetti, i porti di Rio Marina e Cavo all'Isola d'Elba sono stati dichiarati inagibili e a partire dall'8 di novembre verranno intensificati i servizi elbani su Porto Ferraio con l'aggiunta di tre corse. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.